Inizia la finalissima tra Marcon, giocatore di Bolzano, contro Mirko Savoretti, subito parte bene Marcon, boccia 20 cm di atleta dal pallino, Mirko tirerà di sicuro sotto mano, tutto da oggi Mirko molto preciso in bocciata, per Marcon, stavolta è 15 cm, anzi no, è due pezzi, è bersaglio, Mirko quindi adesso effettuerà la bocciata di sopra mano sicuramente, boccia cacciata pulita, perfetta, vi ricordo come ho detto prima in precedenza, Mirko Savoretti è da oggi che lo sto seguendo, è davvero molto molto preciso in bocciata, anche terza boccia di Marcon indovinata, probabilmente ritirerà di sopra mano Mirko, altra bocciata precisa. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. di nuovo sul vicino al pallino, gioco di Marcon abbastanza difensivista che comunque gli porta il primo punto di questa finale, 1-0 per Marcon. Grazie a tutti.